L'NBA 3X torna a Napoli. Sabato e domenica, nel villaggio allestito presso la rotonda Diaz e il lungomare Caracciolo, si svolgerà infatti la terza tappa della manifestazione che offre ai fan di tutte le età la possibilità di vivere in pieno l'esperienza NBA. Marco Bellinelli, una delle star italiane dell'NBA, sarà l'ospite d'onore della tappa napoletana, che sarà inoltre teatro delle esibizioni di ballo e di schiacciate delle Brooklynette, il dance team della squadra di Brooklyn, che ritornano a Napoli dopo la presenza alla tappa dell'NBA 3X nella scorsa stagione. Sono molto contento, sono arrivato ieri, è la prima volta che passerò a Napoli 3-4 giorni, avrò la possibilità comunque di vedere questa bellissima città, quindi ringrazio sicuramente Napoli e tutto quanto per avermi ospitato a questo torneo 3X, quindi cercherò comunque di approfittarne divertendomi e comunque cercherò sicuramente, come ho detto prima, di vedere quanto è bella questa città. Chiuse in pochi giorni le iscrizioni per il torneo vero e proprio, che vedrà impegnate 126 squadre. Le categorie maschili saranno divise in under 12, 14, 16 e 18 e over 18, mentre quelle femminili saranno divise in under e over 16 anni. Le squadre inserite in gironi giocheranno un minimo di due partite per proseguire fino alle fasi finali che si svolgeranno la domenica pomeriggio. Le attività di intrattenimento per i fan che seguiranno gli eventi comprendono tra l'altro la slam cam, dove gli appassionati potranno essere immortalati in una foto panoramica a 360 gradi delle loro schiacciate, la skill challenge, in cui i partecipanti dovranno superare e dribblare gli ostacoli presenti sul campo e il pop e shot per testare le capacità di tiro. Sì, un grande evento, un evento importante. L'anno scorso è andata molto bene, c'è stata una grande partecipazione della città e quindi apprezziamo la scelta poi di ridisegnare Napoli come luogo per il secondo anno dell'NBA. La presenza di Marco Bellinelli qui è un'ulteriore fiore all'occhiello ed è un'ulteriore testimonianza anche per i ragazzi e i giovani che si avvicinano a questo sport e quindi siamo felici perché questo può essere l'inizio del rilancio del basket a Napoli per raggiungere poi vette più alte di presenza e di partecipazione.